Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui ragazzi, benvenuti alla diretta di Kimura Trading, benvenuti a tutti, io sono Riccardo Zago e mia compagnia dovrebbe esserci Vincenzo Penna. Ciao Vincenzo come stai? Ciao Riccardo, ciao a tutti ragazzi, buon pomeriggio e sì stiamo bene, stiamo molto molto bene. Allora, dobbiamo sicuramente parlare del dato di quest'oggi, dei non farm payroll, andiamo subito a vedere un po' come hanno reagito i grafici, se ci sono delle opportunità rialziste, ribassiste nel breve, nel medio termine, chiaramente su euro dollaro, sulla sterlina dove siamo posizionati long da 1,26 e 64, molto molto interessante la chiusura sul time frame H1 che dà un forte segnale rialzista e può riaprire la strada almeno fino agli 1,28, staremo a vedere. Zona resistenziale importante, oltre alla sterlina abbiamo anche euro dollaro, qui io ho invece delle posizioni ribassiste ma per dei trade di più ampio respiro, quindi nel breve termine siamo long sulla sterlina, nel medio termine siamo short su euro dollaro, ogni giornata positiva andrò ad incrementare le mie posizioni ribassiste e la mia view rimarrà tale fin quando i prezzi non torneranno al di sopra, di livello di 1,11 e 50, eccola qui il massimo della seduta del 27 di luglio. Prima di passare però agli indici azionari direi che dobbiamo andare a commentare quello che è stato il dato di quest'oggi su i non farm payroll e chiaramente anche sul tasso di disoccupazione che scende al 3,5%. Allora, cosa ci racconti Vincenzo su questo? Guarda Riccardo, ovviamente da una rapida occhiata, da una parte la disoccupazione continua ad essere bassissima, quindi sono sempre i soliti livelli che non si vedevano da oltre 40 anni, quindi economia effettivamente statunitense che non tende a decrescere, quindi economia super resiliente nonostante i tassi di interesse ai massimi di sempre dei soliti 20-25 anni, quindi lo vediamo ovviamente dal dato della disoccupazione. Ovviamente qualcosina si sta iniziando a muovere sotto il profilo delle buste paga perché si muovono leggermente in anticipo rispetto alla percentuale della disoccupazione e infatti abbiamo visto dei non farm payroll, quindi delle buste paga totali in diminuzione, quindi decrescita rispetto al mese precedente, tra l'altro il dato del mese precedente è stato anche rivisto leggermente a ribasso, quindi c'erano stati alcuni errori di calcolo, infatti non sono 209 mila precedenti ma sono 185 mila, quindi l'attuale è stato confermato praticamente quasi in pari rispetto al precedente, leggermente al di sotto delle aspettative. La paga oraria, lo vediamo dal dato leggermente al di sopra, ha confermato il mese precedente del più 4,4%, quindi ben al di sopra delle aspettative del 4,2. Questi ovviamente, ti ripeto, sono dei dati che ovviamente prendiamo così di superficie, li possiamo chiamare in questo modo qui, poi se andiamo a cercare un po' il pelone e l'uovo si vede che le cose sono leggermente diverse, ma dopo diciamo lo andiamo a vedere più nello specifico. Benissimo, sì, prima di andare nello specifico volevo fare una carrellata di strumenti, perché dobbiamo sicuramente andare a vedere anche il gold, bene rifugio per eccellenza, che dopo aver segnato un nuovo minimo di periodo è tornato a salire con forza, ritornando al di sopra del livello di 1938. In questo momento testiamo i 1940, noi eravamo short da 1946, abbiamo chiuso subito dopo il dato le posizioni perché dobbiamo per forza attendere la chiusura giornaliera per capire se ci sono dei cambi di tendenza, dei cambi di trend, perché se andiamo a vedere lo spike di oggi è andato a ritestare la zone che in precedenza funzionavano da resistenza, ecco qui intorno a giugno e luglio di quest'anno. Come al solito è sempre importante vedere la chiusura della candela, quindi occhio anche al gold che è in fase, che si sta girando. Dobbiamo andare a vedere anche gli indici partendo proprio da quegli americani, partiamo dal Nasdaq che anche se è andato a segnare un minimo crescente rispetto a quello precedente, quindi potrebbe avviarsi oggi un pullback più corposo che vada poi magari a riprendere anche la discesa che c'è stata in questi giorni. Dobbiamo comunque tenere presente che la parte più importante sarà alle ore 15.30 dove ci sarà l'apertura dei mercati americani e facciamo attenzione a questi livelli chiave, anzi li andiamo proprio a vedere perché quali i prezzi dovessero salire con forza, attenzione perché il livello più importante di quest'oggi è proprio questa zona qui dove si è creato proprio nel weekend questo forte gap, quindi per quanto riguarda il Nasdaq siamo a 15.675, 15.715, mentre per quanto riguarda l'S&P 500 lo ritroviamo proprio qui a 4.565, solamente la rottura di questa zona resistenziale sia su S&P 500 che sul Nasdaq 100 aprirebbe anche a nuovi long multi-day dove poi andremo a puntare i nuovi massimi storici che ci aspettiamo, però prima i prezzi devono oltrepassare queste zone resistenziali. Però torniamo a parlare dei non farm payroll. Sì, volevo aggiungere una cosa su quello che hai detto, se permetti. Ovviamente tutto quello che stiamo vedendo in questi minuti, quindi proprio nei minuti appena trascorsi, possiamo dire che il market mover generale che sta muovendo un po' tutto è il dollaro. Infatti il DXY lo vediamo che è in netta discesa, effettivamente ne giovano materie prime come ad esempio il gold, ne giovano ovviamente i cambi valutari diretti con il dollaro, ecco qua, l'abbiamo visto. Però diciamo che questa non è una sorpresa per noi, infatti durante le dirette la mattina, anche durante il webinar, abbiamo parlato come effettivamente l'area dei 102.5 poteva essere ottima per un possibile rimbalzo, quindi ovviamente non è una sorpresa, la sorpresa più che altro è stato il rapido movimento che stiamo vedendo, ma è normale per noi di questa importanza. Corretto, volevo invece andare sul sito www.forecaster.biz per andare a vedere quella che è la stagionalità di euro-dollaro, perché come sapete noi abbiamo shortato euro-dollaro, siamo ancora posizionati al ribasso e nello specifico possiamo vedere qui come la stagionalità ci indica che negli ultimi 5 anni la tendenza è stata comunque, non sempre, ma per la maggior parte delle volte, ribassista sul cambio euro-dollaro. Se andiamo a vedere anche i 7 anni, notiamo anche qui una tendenza ribassista fino alla fine del mese di settembre, lo vediamo anche nei 10 anni, un po' meno accentuata, lo vediamo qui, e lo vediamo anche sui 15 anni. Quindi io penso che ogni rimbalzo sia una buona opportunità per andare a vendere euro-dollaro e quindi anche comprare il dollaro americano. Però qui noi stiamo parlando di un'operazione di ampio respiro, infatti come abbiamo visto in precedenza, non escludiamo un ritorno anche in area 1,11, scusate 1,11, 1,11, 25, mentre nel breve termine stiamo sfruttando anche il long, quindi la debolezza del dollaro, con il long su GBPUSD, con obiettivo in area 1,28. Quindi vedete anche come si può operare in maniera completamente opposta con semplicemente degli obiettivi temporali differenti. Detto ciò però... Guarda com'è bello questo testespalle qui, anche se parliamo di H1, però bello, molto bello. Eccolo qua, lo andiamo a disegnare. Vediamolo, eccolo qui. Sì, tra l'altro stamattina ho fatto l'analisi proprio su caffè e mercati proprio sulla sterlina e l'ingresso era 1,268, quindi proprio precisa al millimetro. Eccolo qua, 1,268. Un buon minimo crescente, vediamo fino a dove può spingere. Benissimo. Incontriamo ora le prime resistenze. Detto ciò però, cosa ci racconti del mercato del lavoro americano? Andiamo subito a vedere questo report che mi hai inviato in precedenza. Allora, cosa è successo questo mese? Esatto, guarda, allora magari se riesci a chiudere il menu a sinistra con il... Esatto. Allora, come anticipato prima, praticamente quelli che noi vediamo in superficie sono i dati principali. Poi se ci sono i report ufficiali dai siti ufficiali, quindi dalle fonti governative, e si può iniziare a vedere un po', diciamo, nel sottosuolo che cosa si nasconde. Ovviamente i dati vengono sempre paragonati secondo le aspettative. Per me, diciamo, è giusto da una parte, però è sbagliato dall'altra, anche perché devono essere sempre contestualizzati rispetto magari agli anni precedenti, quindi ai mesi precedenti. Infatti, l'istogramma che vediamo sulla destra rappresenta appunto le buste paga del settore non agricolo, quindi non farm per all, da luglio 2021 a luglio del 2023. La crescita, o meglio ancora, in questo caso la decrescita è netta, quindi la vediamo che stanno leggermente e inesorabilmente diminuendo di valore, e quindi questo è sicuramente da tenere in considerazione da qui in avanti per gli investimenti che andiamo a fare. Quindi è vero che da un lato il 2021 è stato molto importante per la spinta occupazionale che la vediamo anche dal grafico, però dall'altro dobbiamo un attimino capire che, diciamo, la situazione economica non è delle migliori e si sta iniziando leggermente a raffreddare. Se andiamo un po' più giù, vediamo altri dati, sì, vai, continua, 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 dovrebbe esserci un'altra tabella a un certo punto. eccola qui, esatto, vai un attimo giù, c'è un'altra tabella più giù, più in basso, più in basso, esatto, questa qui. Allora, se vediamo, nel totale delle 147.000 buste paga, praticamente la colonna estremamente a destra è il dato di luglio, quindi tutti i dati che rappresentano appunto luglio, la penultima è giugno e invece la prima è luglio 2022, quindi focalizzatevi magari sulla prima e sull'ultima. Vi dicevo, sul totale dei 187.000 buste paga, quello che fa specie è che la maggior parte delle nuove assunzioni, quindi le nuove buste paga, l'abbiamo avuta nel settore dell'healthcare. Infatti, se andiamo giù, vediamo che 87.1.000, perché ovviamente parliamo sempre di migliaia, sono state appunto nel settore di healthcare e social assistance. Lo sappiamo perché, perché comunque c'è sempre domanda in questo settore, anzi, addirittura si fa fatica a trovare, ma non soltanto in America, anche in Europa, anche in Italia, si fa fatica a trovare il personale, quindi questo addirittura fa quasi il 50% di tutta la totalità delle nuove buste paga. Quindi sì, ok, c'è stato comunque un aumento di 187.000 buste paga, però dall'altro canto quasi il 50% di tutto l'ammontare è soltanto in un unico settore. Questo ovviamente non è mai una cosa positiva, quindi è sempre da prendere con calma e con le pinze. Se andiamo leggermente più giù, giusto per vedere un po' quello che dicevo per quanto riguarda l'aumento orario, quindi l'average weekly hour, dal lato vi dicevo che l'aumento orario netto era di più 4,4%, però se andiamo a vedere un altro dato, scopriamo che le ore effettivamente lavorate durante la settimana sono in diminuzione. Addirittura sono diminuite di 0,1 ore rispetto al mese di giugno e sono diminuite di 0,3 ore rispetto all'anno precedente, quindi rispetto al luglio precedente. Questo come si traduce? Si traduce con un over demand percent change di meno 0,2, che è il quinto dato sulla colonna estrema destra. Quindi questo che cosa significa? Che rispetto al mese scorso, da un lato sì si sta guadagnando di più a livello orario, però dall'altro si sta lavorando di meno e quindi nel netto stiamo comunque lavorando meno 0, o meglio, stanno lavorando nel caso degli Stati Uniti 0,2 ore in meno settimanale. Quindi ancora una volta vanno bene i dati per capire un po' l'andamento generale, però va sempre e comunque un attimino contestualizzato e approfondito. Quindi i dati magari che possono essere ottimi da una parte, se diciamo si scava un po', si scopre che nascondono qualcosina di diverso. Quindi c'è comunque un po' di calo per quanto riguarda l'economia statunitense, quindi si inizia a vedere qualcosina che inizia a rompersi. Benissimo, ottimo, ottimo questo approfondimento. Torniamo a vedere che cosa sta succedendo sui mercati in questo momento. Allora abbiamo l'asterlina che continua a spingere, noi abbiamo il target 1,28, secondo me si può anche valutare di togliere il target price per chi magari ci segue all'interno del gruppo Traders Club e lasciar correre poi la posizione perché la rottura degli 1,28 aprirebbe la strada in primis a 1,28 e 80 e successivamente in area 1,3. Qual è il tuo target sulla sterlina? Guarda, il target sulla sterlina l'ho dato anche stamattina. Il primo appunto è quello che dicevi tu, 1,28, il secondo l'hai disegnato perfettamente tu, 1,28,8, 1,28,9 il terzo 1,30 e salire. Poi ovviamente dipende un po' dai dati macroeconomici della sterlina. Sulla sterlina si è detto molto ieri perché c'è stato il dato riguardo la decisione dei tassi di interesse del Regno Unito in aumento di 25 punti base, però quello che ha mosso un po' i mercati già a partire dalla giornata di ieri, proprio con questo spike ribassista subito riassorbito, è stata la forte presenza wakish all'interno della narrativa della Bank of England, quindi la banca centrale inglese, che praticamente ha detto che i tassi rimarranno sicuramente alti per almeno due anni, che è un orizzonte temporale abbastanza ampio e è un po' la prima banca centrale che dà un orizzonte temporale, quindi rispetto alla Fed, rispetto alla BCE, ha voluto usare un po' di più, quindi non ha detto più alto o più a lungo, ma ha dato proprio un orizzonte temporale preciso e questo ovviamente ha fatto, tra virgolette, festeggiare i mercati con un aumento della sterlina, quindi da tenere sicuramente occhio da qui ai prossimi mesi. E chiudiamo il tutto con l'indice DAX, che ricordo a tutti, come detto anche al webinar dell'Unedi, abbiamo shortato con successo da 16.450 punti circa, in diretta tra l'altro, siamo entrati short, non abbiamo preso tutto questo ribasso, ne abbiamo preso una parte ed ora stiamo assistendo ai primi rimbalzi su delle zone supportive interessanti. Per quanto riguarda l'operatività di oggi, cerchiamo ulteriori affondi anche al di sotto dei minimi precedenti, infatti la rottura dei 15.800-15.780 aprirebbe la strada per altri 100 punti al ribasso, quindi vediamo un attimo alle 15.30, come al solito le 15.30 è un momento importante perché aprono i mercati americani, vedremo se i prezzi torneranno a scendere con forza. È chiaro che invece la rottura al rialzo dei 15.950-15.975 aprirebbe a nuove posizioni e a nuovi spunti rialzisti. Come al solito per chi vuole seguire quella che è la nostra operatività, vi ricordo che se andate sul sito www.investire.biz nello specifico nella sezione servizi e volete seguire me, Vincenzo, Giancarlo Prisco, Luca Di Scacciati nell'operatività, ricordo che c'è il gruppo Traders Club dove andiamo a condividere il tutto. Io direi che per oggi abbiamo visto tutto, grazie mille Vincenzo. Grazie a te, grazie a tutti ovviamente per averci seguito. Vi auguro come sempre una buona giornata e un buon trading. Buona giornata e buon trading a tutti.